Perché ha chiamato Fiorello e io gli ho passato Davide, capito? Perché eravamo assieme tre settimane fa in Sardegna, poi lui gioca a tennis e mi ha fatto morire perché ha raccontato... Anch'io giocavo a tennis, a parte che ha preso per il culo il tennis perché tutti fanno calcio 1-0, 1-1, 2-1, 2-0, il tennis, tiri, 15-0, tiri, 30-0, tiri, tu ti aspetti 40-0, 40 e non capisci perché cazzo mi ha fatto morire, è un fenomeno. Ma lui a tennis giocava? Lui giocava un po' a tennis, da piccolo mi diceva sì, a tennis, vedevi quelli del paese che andavano a giocare in sporchi di terra rossa, sai, fighi, con le racchette, e lui non poteva andare, il papà gli diceva, vada, non c'è problema, puoi andare a giocare a tennis, dobbiamo fare una scelta, due cose, o giochi a tennis o mangi. Tu poi hai fatto lo spot con Federer, che quando l'ho visto hai detto, no, grande, ma ci hai giocato a tennis un pochino. No, no, però l'ha cucinato solo lui con me, guarda, ti faccio vedere in anticipo, cazzo qua però, eh, l'ho spento, dopo te lo faccio vedere. Senti, ma Federer, cioè, è arrivato e ha detto, hello, I'm Davide, lui, I'm Roger. I'm Ruggero, he said, I'm Ruggero, he said, why, what? Ruggero, perché, no, mi piace, cioè, lui scherza molto, e poi è un appassionato, secondo me, della vita, perché si rende conto che ha avuto tutto quello che è di più di quello che una persona può avere. Ok, però è un tipo la mano umile e facile. Assolutamente, poi io calcolo che sono appassionato molto di tennis, quindi, cazzo, è proprio il cerchio. Poi io arrivo dal periodo in cui ero, io faccio un provescio a due mani, ovvi motivi, della mia età, che c'era Borga, il più grande di tutti i tempi, secondo me, che a 25 anni e mezzo si è ritirato e ha vinto tutto quello che ha vinto per la testa. Allora, gliel'hai detto a Roger che Borga era il più grande di tutti i tempi? No, 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 ma anche lui, anche lui considera Borga come, ha 25 anni, ha vinto 5 a Wimbledon, credo 6 di Roland Garros, cioè, e poi ha perso la testa, cioè, no, la testa, però ha perso la concentrazione e, boom, 25 anni e mezzo, questo qua ne ha 36 e adesso 37, è numero 2. Come fa a giocare così ancora a quel livello? Tu calcola che gli ho detto, la peggior cosa che potessi immaginare quando ho visto il film di Borga è che Borga, un colpo al cuore, distruggesse, fino a 14 anni, 3-4 raccette a partita. Pazzesco. Cioè, era peggio di me che non avevo. Il problema è che poi hai certe persone, una di queste è Roger, che decidono di fare lo switch, che diventano così, e Roger, anche lui mi dice, anche io, fino a 19 anni, cercavo 3 raccette a partita, anche io, giuro, giuro, e poi mi dice, poi ha preso un guru che è, 6 mesi, via anche il guru perché, che cazzo vuole il guru, e come hai fatto? Cioè, tu adesso quasi non studi a tennis, c'è il rovescio elegante, un timore, vinci, però vinci, ragazzi, questo ha cambiato la visione probabilmente della vita, è riuscito a cambiarla, o evolverla, secondo me a cambiarla, perché a 19 anni riesce ancora un po' a cambiare, e quindi è entrato in questo, secondo me, tunnel, ed è ancora dentro, cioè lui non si muove. Incredibile. Senti, l'ultima volta che ci siamo visti, a un certo punto ho preso l'ispirazione, ho detto, basta, devo imparare a cucinare almeno un piatto, ok? Perché la mia dolce metà dice sempre, non sai cucinare, tutti i miei figli che dicono, ecco, non sa cucinare, zero proprio. Ai tempi, mi ricordo, dove i figli più grandi facevi i quattro salti in padella, facendo finta che fossero miei, fino a quando mi hanno scoperto. E lì è stata la fine, capito? Eh, lì, infatti, sai che una volta anch'io ho fatto, non diciamo marchi, però ho provato a fare una cosa per curiosità, perché mi piace assaggiare tutto, e ho spacciato questa cosa come mia, avevo solo messo un pizzico di formaggio in più, ho sistemato la salsa, e la persona che ha assaggiato, mio fratello era, grazie, non si sente questa cosa come è fatta tu. La mano di lontani. Comunque, ero lì, ho detto, basta, adesso, cazzo, imparo almeno a fare due spaghetti a pomodoro, una roba banale, e tu hai un video tuo dove spieghi, tipo, in due minuti, come si fa gli spaghetti a pomodoro, ho detto, è fatta, cioè, quanto difficile può essere, e ho seguito pari pari, tutto il coso, però il pomodorino tagliato, la cosa, cioè, un disastro, una roba che dici, immangiabile, e quindi ogni volta penso, ma come fa, come fa uno che sa cucinare bene, a mischiare, a me sembra una roba talmente impossibile, perché, e ringrazio Dio, di essere rimasto in un sistema alla velocità dell'uomo, cioè, noi viviamo una velocità di social, di situazioni dove è molto più veloce di quello per cui l'uomo può andare, può camminare, può fare, può vivere, e quindi la cucina è una velocità assolutamente umana, perché devi dedicare del tempo a cucinare, tra virgolette, secondo qualcuno, perdere tempo, secondo me è una cosa più sbagliata, e poi ti devi dedicare del tempo quando mangi, quindi se riflettiamo sono gli unici momenti in cui tu non sei obbligato a mettere yes, no, like, no, share, non capisci più niente, perché devi considerare, cioè, devi dedicare del tempo, mangi, capisci se è buono, se non è buono, puoi dare un giudizio, e questi giudizi che dai, evidentemente, sono più attenti, e quindi sono più costruttivi per le persone che le ricevono, e io ringrazio sempre Dio di aver scelto un mestiere che mi rende quello che sono, cioè, io sono un uomo, devo vivere alla velocità dell'uomo, e voglio vivere alla velocità dell'uomo, e per questo motivo che tra te e un professionista, chiamami professionista, o un appassionamante della cucina come me, ci deve essere differenza, perché? Perché io ho praticato di più, chiaro, chiaro, ok? Praticare di più nella cucina vuol dire imparare, affinare il gusto, affinare la manualità, e dopo affrontiamo, se vuoi, la sensualità del cuoco, che secondo me è molto bella, bellissima sensualità del cuoco, quello che è il pensiero mio, quindi la manualità l'acquisti non ascoltando, l'acquisti, sì, ma piccola fetta ascoltando gli altri, ma facendo, il fare, il fare, che è molto diverso da quello che è la parte così comunicazione, dove tu parli, spieghi, fai, a seconda di quanto sia la tua esperienza, quanto tu sia vecchio, tu dai delle indicazioni ottime, perfette, precise, o comunque interessanti. Il fatto che inganna, sai qual è? A parte che il fare sposo in pieno, nel mio settore tech, c'è gente che parla, dice, ah, bisogna fare Facebook advertising così, e non hanno mai speso 100 lire su Facebook, cioè non sanno neanche di cosa stanno parlando, se non lo fai, non ti sporchi le mani, è un casino. Però il fatto che secondo me inganna è che sembra facile, capito? Cioè io, tu hai degli ingredienti, sono i miei stessi ingredienti, sembra facile, il problema è che io faccio un disastro, capito? E tu invece fai questa pasta, fazzesco. È il fattore umano, è proprio il fattore umano che cambia la visione delle cose e la modalità nel fare le cose, perché per la cucina bisogna capire che per fare uguale devi praticare e farlo tanto. Essere sul pezzo, essere uno e non 100.000, essere sul pezzo cambia, perché è la manualità, l'artigianato per cui è riconosciuta l'Italia e per cui secondo me lavoriamo ancora poco adesso per essere riconosciuti come una volta, come maestri artigiani nel mondo, è proprio quello, il fatto di continuare a fare. Per fare il sushi in Giappone, il maestro del sushi studia 30 anni per arrivare a fare solo sushi. Pensa, uno direbbe quanto è pirla questo, no? No, no, quanto è bravo, poi il sushi è un pezzettino di pesce del riso che tu mangi con le finger, non con le chopstick, con le dita. Il maestro sushi deve avere 20 anni di scuola prima di diventare a sua volta maestro, cioè devi stare dietro, impara, 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 poi diventa maestro. E questo tempo non lo puoi comprare né con i social né con le multinazionali, nulla. Lo devi fare, devi imparare. Ma tu come hai imparato? Ed è quello del fare, il comunicare, la cucina. Se tu mi avessi messo qui 15 anni fa, come fra 13 giorni che iniziavo la mia esperienza sul Do, ero ancora nella fase in cui la spugna si stava riempiendo, si stava imbevendo. Cioè stavi apprendendo per capire. Adesso la spugna comincia a piano piano essere satura, e quindi qualche goccia scende, che sono queste perle o questi messaggi che do anche ai miei ragazzi che lavorano. Quindi 15 anni fa, prima che iniziassi realmente a fare, a testare quotidianamente, a parte raccontarti il piatto di spaghetti bene e intortarti via su una ricetta, non potevo fare. Quello che posso fare adesso è raccontare un po' la mia esperienza. Quindi l'ho vissuta intensamente, la posso raccontare, la metto a disposizione dei miei ragazzi, dei giovani e so che crescono con delle nozioni giuste, così anche mia figlia. E per questo vi dico il fare. Il fare è molto importante perché vuol dire che tu hai fatto e quello che dici lo puoi provare. Cosa che politicamente a volte non succede perché tu devi prendere i voti in base a una promessa che fai e non a ciò che magari hai fatto. Quindi io ti devo dar fiducia, ma dovevo dar fiducia? Certo, sono risultati, i risultati sono opzionali, insomma. Sono Sant'Omaso, cioè io voglio vedere, non ci credo prima che non vedo qualcosa. Se uno si presenta con un qualcosa che ha fatto e me lo spiega, posso considerarlo. Se uno devo dare un voto perché mi promette, in questa società secondo me sono un po' più fatica. Senti, io giocavo a ping pong di professionale sbarbato. Mi odiano quando dico questo perché dicono sempre, ma non ti cazzo parli sempre solo di ping pong. Però è la verità, insomma, la mia passione era quella lì. A volte la cucina mi sembra come il ping pong, cioè se tu chiedi a uno, ma sai giocare a ping pong? Eh sì, ero campione, cioè sono tutti campioni, no? Ti perdi. Poi nessuno sa giocare, nel senso i professionisti veri sono pochi. Sulla cucina è uguale, cioè tutti cucinano in un qualche modo perché devono, perché si mettono lì, prendono, esiste ancora il cucchiaio d'argento, non so, prendono, capito, i libri vari e si mettono lì, fanno la ricetta e dopo un po' ne fai tre incroci e dici, eh vedi, sono un grande cuoco. La verità è che quelli bravi veramente sono pochi. Che cosa fa fare il salto di qualità? Oltre al fare che, ok, ci deve essere massima applicazione. Dov'è che tu dici, ecco, questo è un grande cuoco o questo ha superato un certo livello e questo invece, no, ti ammai. Lo vedi? Io più che dire questo è un grande cuoco, adesso mi sono abituato a dire questa è una grande persona e non può che cucinare bene. Ah, ok, bello questo. Non può che cucinare bene. E la differenza la vedi proprio lì, perché alla fine la materia cucina, ce la raccontiamo, carne, pesce e frutta e verdura, sono quattro prodotti che il nostro fisico può ingerire. Beh sì, non è come magari nella moda dove cambiano i materiali, cambiano un milione. Il corpo umano ne recepisce quattro e su questi quattro noi dobbiamo creare tante storie. tante storie che ci portano ad essere in primo piano perché la cucina continuerà ad essere in primo piano da dieci anni a questa parte o più al futuro perché ci siamo accorti che è l'unico appiglio su cui noi dobbiamo stare perché se non mangiassimo non potremmo neanche star qua a parlare, quindi assolutamente il cibo, ci siamo accorti che il cibo selezionato bene ci fa bene, ci fa star bene, quindi ci fa lavorare bene come diceva Virginia Wolf. E poi c'è un mondo esterno a quello della cucina dei cuochi che trae beneficio, perché parlandone, dimostrando, facendo show si fa anche tanto danaro. Quindi metti assieme qualità di cibo, qualità della vita, guadagno, cosa vuoi di più. Super, come ti spieghi che si è esploso così, diciamo oggi lo chef è una star, ti faccio questo esempio che mi ha colpito tanti anni fa, io mi ricordo andai a Londra e c'era il programma di Jamie Oliver The Naked Chef e lui iniziava a fare questo programma dove parlava di cucina ai single, un ragazzo che parlava ai ragazzi, per cui era qualcosa che cambiava un po' il paradigma, perché in Italia ai tempi di cucina parlava la signora, non mi ricordo come si chiamasse. Sì sì, la sua germana era una di quelle, Bonassise, sì sì sì. Donne, facciamo gli spagnoli. Filma di Angelis, sì sì. Per cui se tu eri un ragazzo, uno sbarbato, ma mica guardai quella roba lì. E allora questo ha iniziato a cambiare il paradigma e poi c'è stata un'esplosione, no? Tu sei una superstar, una serie di cuochi sono diventati proprio celebrities a tutti gli effetti, insomma, rockstar. No, ma grazie a Dio, secondo me questo è un lato, è uno dei lati positivi per cui sia successo tutto questo nel mondo della cucina. Perché ci siamo veramente accorti che l'unico modo per poter vivere bene in maniera corretta è quello di mangiare bene. Quindi più trasmissioni ci sono, più gente parla di cibo, più c'è una possibilità di confronto e una possibilità di scelta. Questa vuol dire democratizzazione di ogni cosa. Quindi tu ascolti, verifichi quello che secondo te è più giusto e poi scegli. Sì, ok? Basta, secondo me non andremo, anzi andremo molto lontano con questa parte di esposizione di cibo. Tornando un po' alle radici, tornando un po' al nostro, nel nostro DNA che era un tempo. Io nel 30 anni fa, 32 anni fa più o meno iniziavo a lavorare da Gualtiero Marchesi, primo e unico trastello italiano, grande maestro, quello che ha rivoluzionato la cucina italiana. Ok? E si parlava, oltre il fornello, il suo primo libro, che nel 2000 ci saremmo nutriti di pillole. Ok. Ok, lui era molto futurista, molto artista, molto intelligente. E questo non si è avverato perché era un'idea di un momento in cui c'era l'inizio di questa grande esposizione ed evoluzione, rivoluzione del cibo. E grazie a Dio perché ci siamo accorti che evidentemente la pillola non bastava per l'uomo, ma ci siamo accorti che abbiamo una cultura nel DNA nostro che dobbiamo andare a rispolverare e ci troviamo oggi, nel 2018, a riscoprire il territorio, a riscoprire il prodotto di stagione, che è fondamentale, a riscoprire che la stagione, nella stagione, paghi meno il prodotto e ti fa meglio. Cazzo, sei pirla se non lo usi. L'applied economy, no, teoretical economy, che è quella frase con cui ho iniziato la mia elezione ad Harvard quando hanno fatto la case history sul ristorante, è l'applied economy, l'economia applicata, è proprio quella che arriva dal DNA. Cioè la mia mamma ha sempre nutrito figli e marito con il prodotto di stagione. Perché se non una famiglia qui poco fuori Milano, che doveva fare attenzione all'economia della famiglia, andava a comprare il meglio nella stagione, lo pagava meno e nutriva bene la famiglia. Quindi questo senso per cui dopo 32-35 anni non ci nutriamo con le pillole, ma ci nutriamo veramente con dei prodotti che ti fanno masticare, che ti fanno gustare, che hanno una persistenza. Tu vedi anche il mondo del vino come si è evoluto. Ha fatto sì che questo potesse diventare veramente un qualcosa su cui puntare. E l'economia italiana sarebbe stupida non continuare a puntare su quello che è turismo e su quello che è tutto il mondo delle nuove astronomie. Tutto questo mondo dei social in un qualche modo, cioè, fa bene, fa male, fare questo food porn continuo dove tutti fanno la foto del piatto. Ho visto un tizio che non ce la faceva più e ad un certo punto ogni volta che c'era qualcuno che si metteva lì a fare la foto del piatto, lui usciva con una trombettina e gli rovinava la foto, capito? Non ce la faceva più e dice basta, queste cazze foto del piatto. Fa bene, fa male, il fatto che magari hai della gente che non è molto competente, ma diventa visibile perché, capito, fa... L'importante è non essere invidiosi l'uno dell'altro, questa è la cosa più importante perché l'invidia ti porta a non focalizzare più ciò che tu hai nella tua testa. Il social, il fatto che tu possa avere accesso a qualsiasi informazione, va benissimo, compreso internet. Una volta, 30 anni fa andavo in giro con lo zaino, tre Brillant Savaren, Escofier, la Fisiologie du Gu e bla bla per avere ogni volta che ho bisogno andavo a vedere. Adesso tiro fuori questo, due secondi, ho un po' di notizie. Quindi su quel lato lì va molto bene. Sul fatto che uno poi debba essere o possa essere distratto nel passare, tu dicevi in un tuo intervento, 400 ore all'anno sui social. Secondo me, per un lavoro artigianale come il mio è tempo perso. Ok. Questo ti serve per non portare lo zaino, avere i bigini, avere i grandi libri, ma per andare a farti un'informazione, a farti una cultura, perché lo puoi fare. Ok. Non sono solo notizie false. Tu dove ti documenti se devi, a prescindere dall'informazione macro, generale, però magari c'è un'idea di una ricetta. Adesso lancio, dov'è che prendi le tue informazioni o vai a confrontarti? Vado a consacrare l'idea che ho sulle scoffie, continuo, insisto, perché le scoffie è colui che ha codificato un po' la cucina mondo, adesso direi, 30 anni fa dicevo quella francese, adesso direi la cucina mondo. Se ho una salsa, se ho una cottura di un pesce, di una carne, di un piatto, di un abbinamento carne-pesce, assieme, ho il mio scoffie, ho la fisiologie du Gou di Savarene. E scoffie, la mia ignoranza? No, è il più grande cuoco che ha codificato la cucina francese, internazionale, nel 1860, più o meno, leggermente tra l'Artousi e Savarene in quel periodo, anzi Savarene era un po' prima. e quindi codificando questa ha deciso che la cucina avesse un'identità. E poi da lì tutti i cuochi hanno iniziato a fare le loro interpretazioni. Però tu vedi che se vuoi una conferma di qualcosa, stasse classique, questa era la frase che io sentivo quando lavoravo io e Gordon a Lega Brosh, o da Ducasse, o da Pierre Hermès, o da Marchesi, quindi stasse classique, che non capivo all'inizio cosa volesse dire. E un questo è classico voleva dire che c'era una base classica su cui il cuoco lavorava, ti faceva il piatto, e poi tu dai la tua interpretazione. Però è sempre bello lavorare su una base, cosa che i francesi hanno fatto. Allora a questo punto direi che il fatto di avere una base, di avere comunque una conferma, a me rende più tranquilla la vita, no? E poi da lì so che quella regola è stata fatta con un criterio corretto, la posso stravolgere, ribaltare, la posso sbagliare. Fai la tua variazione. Però puoi avere un filone. E dopo Escofie 1860, nessuno ha più codificato un qualcosa. Si è parlato dell'artusi in Italia, si è parlato del carnacina. Tu prima hai fatto un esempio, il cucchiaio d'argento. Se tu fossi stato un francese avresti detto, io prendo il mio Escofie e faccio la ricetta. Tu invece hai preso un ricettario, che non è un libro codificato. Con i principi di base, diciamo. Vedi la differenza tra quello che è un sapere italiano... Un dilettante. No, un dilettante o comunque una persona che si fida di quello che ha intorno è quello che offre una situazione di cultura all'epoca. Adesso ce l'è anche l'Italia, però come la Francia. Chiaro, chiaro, chiaro. Ok? Quindi questo, secondo me, è la differenza. Poi tornando a quello che dicevi prima, sul fatto che uno pratichi o riesca bene in cucina o no, è proprio quello. Il senso di avere un approccio alla cucina che debba essere quello anche di un sacrificio, di una praticità quotidiana. Ma se tu devi fare una ricetta nuova, non so, come funziona? Cioè io ti immagino a volte, dico ecco Davide sarà la notte, si svegli e dici, eh cazzo però, quella fogliolina di basilico va tagliata, mischiamo questa cipolla caramellata. Non lo so, da dove parti? È come uno che deve scrivere un libro o fare un dipinto, dici hai l'illuminazione o sotto la doccia, dici ecco mi è venuto quello spunto, da dove inizia? Quindi tu partiresti così a fare, facendo una ricetta o più o meno, lo spunto dici la visione la fai. Io non so, non so dove partire, aiutami. Sono abituato ad andare per regole. Mi dico, qualcuno mi dice sei molto giapponese, sei molto tedesco, non so perché, però io vado per regole, per logica, per far sì che colui che ho davanti capisca. Quindi non parlo il politichese, parlo per farmi capire, poi a volte magari sbagli, perché ti capiscono subito e quindi il nemico ti capisce e può reagire, però secondo me il metodo più bello è quello di farsi capire. Vado per logica, nella ricetta c'è una sola cosa da badare, la stagione all'inizio. Ok, quindi tu dici parti dalla stagione. Partiamo dalla stagione, perché, l'abbiamo detto prima, vuol dire che hai... Il prodotto e anche accessibilità. Dopo Expo abbiamo urlato al mondo, l'Italia ha urlato al mondo, che è Energy for Life e Fini the Planet, cibo per tutti, con qualità. Perfetto, parti dalla stagione. Stagione. Ci sono. Una volta che ho selezionato la stagione, seleziono il prodotto. Adesso siamo in autunno, si può dire, andrà subito in onda. Sì, sì. Mi viene in mente, adesso c'è la zucca, che è un prodotto buono, c'è il tartufo, c'è l'uva, c'è il cavolfiore, ce ne ce ne è. Scendiamone uno. Tartufo mi piace. Tartufo è un po' più singolare, perché se ti fa male un po' la stagione, ne hai poco, costa troppo. zucca, è molto rispettabile. Zucca, accessibile. Quando ho selezionato il prodotto, comincio a pensare a quello che è equo per tutti noi. Lui che ci sta riprendendo, te, lui, gli altri ragazzi che ci sono qua, noi tutti quanti abbiamo una cosa in comune, che è il palato. Ok. Tutti quanti noi abbiamo un palato dove recepiamo il dolce, l'amaro, il sapido, il grasso, l'acido detto, il croccante, il morbido. Quindi, sulla zucca, comincio a ragionare come voglio fare un piatto. In questo piatto, se io faccio una zucca, una purea di zucca, che è morbida, leggermente sapida, vado ad aggiungere un altro ingrediente che sia croccante e dolce. Ok. Ok. Per bilanciare, diciamo. Se è leggermente grassa, aggiungo un filo di acidità. Se voglio servirla tiepida, calda, aggiungo un tocco freddo. Tutto questo consente di dichiarare apertamente che sia un contrasto estremo, perché è caldo-freddo, dolce-salato, morbido-croccante è l'estremo. Sì. Se tu hai questo estremo, che è un contrasto, dai un equilibrio, vuol dire che tu hai fatto la cucina perfetta. Ok. Simple. Sembra facile. No, però il ragionamento, credo di essere spiegato bene, un po' da cuoco, però... No, no, è logico. È logico. Vedi? Quindi, stagione... hai delle regole e hai la tua procedura, invece vedi che non capisco una sega, parto, capito, dalla fantasia. Ah, perché sei influenzato? Certo. Sei influenzato da colui che ti dice vedo il sole, c'è un cervo che salta, gli sparo, prendo il sangue, faccio il si ve, poi faccio... Cazzo, no. Va bene. Attenzione. Aspetta, aspetta. Quello va bene. Quello va bene. Non è il mio modo di pensare. Chiaro. Perché tu che mangi, anzitutto devi capirlo mangiando. Quindi se tu mangi da me e io ti movimento tutto il palato e tu mi dici c'è un bilanciamento, c'è pum, 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 poi alla fine quando tiro il conto c'è un pareggio bellissimo di armonico. Funziona in modo armonico. Armonico. Basta, è centrato. Certo, è molto borderline perché se appena appena mi cade un goccio di più di acidità in una cosa grassa oppure in una cosa un po' più di sal cioè diventa... L'altra curiosità che avevo è come fai a garantire in modo consistente che una stessa ricetta non l'azzecchi una volta sola ma sia ripetibile ogni giorno, ogni giorno perché magari io magari a volte una volta nella vita ho azzeccato un piatto di pasta di culo però non sono in grado di replicarlo. Allora... Da cosa dipende? Da cosa dipende e qui torniamo a bomba su quello che è la parte del maestro che va a bottega a imparare un lavoro artigianale. Dipende che tu non puoi avere lo stesso piatto sempre. Ah, ok. Più o meno molto vicino ma io ti porto un esempio. Oggi vado in cucina a cucinare stanotte ho finito alle 3 di lavorare ho dormito male mi alzo devo andare in cucina comincio a cucinare allo mezzogiorno sono stanco io ho una ricezione di gusto sul mio palato diversa da quella che era ieri magari che avevo dormito bene quindi il piatto in automatico che faccio è sicuramente diverso più buono o meno buono non lo so ma diverso da quello di ieri. Cioè io ho delle ricette per cui tu mi riconosci tipo la cipolla caramellata è l'esempio dell'equilibrio dei contrasti che ti dicevo poco fa però poi mi rendo conto da artigiano che ho anche dei limiti Magari è l'ingrediente anche diverso a volte è più buono No, se tu usi la stagione sai che per un tot hai quasi la garanzia di avere il prodotto quasi non 100% perché adesso c'è il tartufo ma se piove 3 giorni in più o se si secca il terreno per 4 giorni in più tu non hai il prodotto si alza il prezzo ne hai poco eccetera quindi microclima fondamentale devi rispettare questo Sì, tu dici devi rispettare il clima rispettare il prodotto ma dipende poi da come ti alzi quel giorno dalla manualità che è diversa Dalla manualità che tu hai dalla forza che hai di insegnare quindi prima ti dicevo della persona prima valuto la persona poi il cuoco perché tu devi avere la manualità e l'intelligenza e la pazienza di insegnare quello che tu insegni facendolo fare deve essere un po' quello che poi l'altro cuoco ripropone tu devi lasciare un po' di libertà democratica a colui che interpreta il tuo piatto dandogli la giusta direttiva e la giusta direttiva gliela dai facendogli vedere spiegando ma senza garantire la perfezione che sia sempre uguale di fatto è sempre un pochino diverso perché è manuale adesso magari le sculture in marmo che si fanno sono mi hanno detto che il 70% di una scultura in marmo viene fatta a macchina poi c'è un 30% fatto a mano magari lì ti avvicini un po' di più così come il legno ma nella cucina dove è il momento l'istante l'azione che fai quando tu ti muovi se ti giri bolle un po' di più è ridotta un po' di più la salsa hai messo sale diventa più salata tu hai trambato tutto il piatto parlami della tecnica che mi interessa sempre un sacco avevo visto questo film l'avevi visto Burnt con Bradley Cooper che fa il cuoco stellato che vuol prendere le tre stelle michelle poi dopo ti chiedo le tre stelle michelle mi colpiva sempre la posizione perché magari in un cuoco non la noti perché è naturale invece in un attore vedi che cerca di assumere quella posizione ed era sempre piegato sempre un po' gobbo curvo che mi chiede male interpretazione perché se tu vieni nella mia cucina ma è vero o no? che sono sempre tutti piegati verissimo soprattutto nella parte dell'attore se tu vieni nella mia cucina ti farò vedere ci sono delle impronte in alcuni punti strategici della cucina che io ho messo che sono quelle che danno la postura ai ragazzi quindi la postura deve essere alta se poi parliamo di sensualità come dicevo prima quando mi chiedono il cibo più sensuale più secondo me non c'è il cibo sensuale c'è il movimento del cuoco che diventa sensuale perché vedere un cuoco cucinare in maniera elegante pulita corretta i passaggi fascinanti quando tu cucini in effetti devi preimpostare la tua testa per il movimento successivo chiaro quindi devi fare un lavoro sapere che poi ti sposti ne fai un altro poi ti sposti dall'altra parte fai l'altro devi essere tutto tutto legato proprio perché tu devi arrivare alla fine e presentare il piatto finito allora è questa parte che se ne o mai in cucina è importante poi un attore si può permettere di stare piegato ma non è la postura giusta per essere affascinanti in cucina e come gestisci le persone in cucina perché a seconda anche lì a seconda dei film dei racconti di quello che vedi è proprio un team lavoro di squadra e poi a volte c'è lo chef irascibile sempre incazzato a volte c'è quello che fa il lavoro di squadra oppure a volte uno si immagina lo chef che sta lì fermo passano col piatto preparato e lui assaggia no sì no la fogliolina è più di qua di là come funziona questo lavoro di squadra il tempo di health kitchen di Gordon è passato e ne ha fatto tesoro un sacco di persone in Francia dove c'erano i grandi servizi lunghi insulti vari insomma sono passati alle nuove regole nuove leggi per alleviare un po' la vita del cuoco però per quello che riguarda il mio approccio attuale deve essere quello che è l'esempio la più alta forma di insegnamento dove tu fai vedere senza urlare dando delle spiegazioni questa frase di Gualtiero Marchesi dell'esempio mi piace ripeterla ai miei ragazzi perché credo solo che con appunto il sacrificio la dedizione e la spiegazione logica facendo vedere quello che fanno poi tu possa fare un servizio alla fine molto in scioltezza dove sei concentrato non hai bisogno di urlare puoi fare i piatti in maniera corretta poi sono dell'idea di quelli che condannano chi non ci prova non chi sbaglia invece di Michael Jordan che tu conosci bene quindi nel mio caso nel caso del mio team della mia squadra è proprio il fatto che io dia un esempio coerente con quello che sono e i ragazzi poi seguono sbagliando e quindi ci sta però provandoci e quali sono le persone chiave in un team in cucina persone chiave sono ti deluderò lavapiatti ti deluderò per dirti sommelier per dirti l'ufficio lo chef il comiche che è appena arrivato in cucina perché è una squadra è una squadra in uno dei miei otto libri che ho fatto pop la mia nuova grande cucina italiana sono addirittura andato giusto per far capire ero molto social perché fotografia l'ho fatta di una squadra della squadra dei miei ragazzi l'ho fatta a San Siro stadio vuoto in mezzo al campo la foto dei venti ragazzi più o meno che eravamo per far capire che il ristorante è un gioco di squadra dove lo stesso valore umano deve essere dato all'interno di cucina al ragazzo che lava i piatti così come lo chef così come all'amministrazione insomma tutti tutti che lavorino per un obiettivo che è quello di far qualità e se tu non hai un team di questo genere tu non puoi fare un lavoro come quello della ristorazione questo spunto io l'ho preso perché ho sempre amato lo sport a 16 anni io ero in C2 giocavo nella Rodense poi brutto incidente in un torneo di calcio a scuola mi ha slide in dosso finito il sogno del calcio e ho aperto il cassetto e c'era quello del cuoco quindi vivere sempre con due sogni questa me la riuso farò il video vivere sempre con due sogni te la rubo alla grande l'alternativa l'alternativa cioè per vivere bene per vivere bene Davide Oldani deve sapere di essere libero e per essere libero io purtroppo ho questa cosa che sto facendo un lavoro faccio questo faccio bene però so che nel caso io mi dovesse annoiare io posso sono sicuro che lì faccio così apro appena appena c'ho quello che voglio c'è il sogno di backup ancora e quindi questo poi Liga dice che sono anche gratis quindi non li paghi se lo dice Liga è vero di sicuro va bene voglio dire no e quindi questo per me è molto importante anche per la motivazione certo che voglio dare ai miei ragazzi adesso abbiamo aperto una scuola alberghiera a Cormaredo dove c'è alla base la cucina of course è una doppia possibilità che quella dello sport dove abbiamo avuto il patrocino del CONI dove inviterò a parlare qualche amico ex calciatore eccetera piuttosto che Gallo adesso mi piacerebbe il prossimo anno che torna in Italia a portarlo e mi ha detto che verrà quindi dare un'opportunità e una visione a questi ragazzi che saranno i futuri cuochi d'Italia che però che nella vita puoi avere devi tenere comunque non il piede in due scarpe che è sbagliato ma sapere che nel momento in cui ti può andar male tu puoi avere un'interiore possibilità questo lo dico perché quando io rupi la gamba Tive Perone sposta scomposta sul campo da calcio dove non avrei dovuto giocare perché ero già nei professionisti e feci il torneo a scuola in quel momento per terra con Tive Perone sposta scomposta è finito e lì hai detto farò il cuoco no vado avanti a fare quello poi dopo con l'aiuto del papà della mamma mio padre è molto severo pensa che io fino ai 22 anni nella mia testa pensavo io di mestiere farò il giocatore di ping pong non avevo nessun dubbio ma neanche per la più palle l'anticamera del cervello poi ho detto farò l'avvocato ho cambiato effettivamente se uno cambia ma non che fai due cose contemporaneamente ho fatto magari un periodo solo una cosa poi un periodo un'altra cosa che non è il provare a fare tante cose perché non hai voglia di farne una è diverso ti butti anima e corpo però a volte sai che poi un'esperienza finisce ma questa cosa delle stelle Michelin mi ha sempre incuriosito ho un amico che sta girando Davide che sta facendo un tour di ristoranti di Michelin di stellati ok e praticamente fa si gira non so quattro stellati in un weekend e va capito ovviamente c'ha da spendere perché e no e ha fatto tutti i tre stelle adesso arriva da te a breve forse è già venuto non so comunque fa tutti i tre stelle e fa così e ogni volta mi chiedo quanto questa cosa delle stelle Michelin spinga a uniformare in un certo modo la cucina perché se io vado in uno stellato a volte la sensazione è che tutti si cerchi di andare in una stessa direzione i piatti sono magari molto simili non so questa è una percezione da mangiatore ecco oppure invece è una formula che comunque dice guarda la qualità viene settata e ci sono no in teoria non dovrebbe essere così anche se magari a volte accade perché comunque il riconoscimento della stella intende una un'attività molto artigianale dove c'è grande personalità delle persone chef cuochi che lavorano artigiani che lavorano dentro per cui una diversa dall'altra è quell'esperienza che ti permette di essere diversa probabilmente il tuo amico lo fa perché ogni ristorante che visita va a visitare sono cose diverse l'esperienza che noi vogliamo il massimo è avere ogni giorno esperienza diversa in questi ristoranti stellati secondo me c'è gran qualità c'è poi puoi amarla o no questo è un problema singolare però c'è grande grande qualità grande professionalità e grande voglia di a volte stupire a volte magari essere un po' più tradizionale però dare sicuramente una una esperienza nuova ma è vero che quando vengono a fare il controllo sono anonimi non sai chi sono le quelle confermo e se lasci lasciano il cucchiaio apposta per terra per vedere se c'è tutte queste chiagate un po' da ratatouille l'azione da ratatouille e tu sai e dici no però forse è lui il recensore della stella Michelin come funziona? allora se ci tieni e credo che un qualsiasi ristoratore debba insomma essere orgoglioso io sono molto orgoglioso di essere dentro la guida Michelin e quindi è un bel bollino di qualità esatto poi soprattutto perché è una lingua internazionale che ti fa riconoscere nel mondo però devo dire che in maniera molto professionale perlomeno quello che è capitato a me al DO vengono mangiano pagano il conto e poi si rivelano poi dopo se c'è qualcosa da suggerirti da dirti e tu non sai chi siano sempre in maniera molto professionale lo confermo proprio sotto tutti i profili e questo è un vantaggio perché poi se tu pensi una guida in una guida tu ci entri ti mettono in una guida ma se non ci sei non è che ti accada qualcosa quindi l'incazzatura del non esserci voglio dire è una cosa dove se ci sei potrebbe essere un plus per te ma non è che se non ci sei non vada bene perché nessuno ti spara contro chiaro cioè non siamo più nella Repubblica delle Banane dove scrivono recensioni fatte male apposta per secondo loro ci sei perché secondo loro il loro criterio di giudizio vale e quindi ti mettono in quella tal guida chiaro altrimenti uno potrebbe fare qualche tempo fa avevo letto un libro di gastrofisica che mi aveva gastrofisica sì il colpo però mi aveva incuriosito perché ero stato da Fedduck da Eston Blumenthal e mi aveva colpito l'esperienza di Eston Blumenthal perché ti portava ha capito l'ipod dovevi ascoltare la certa musica mentre mangiavi il piatto di pesce sotto avevi questi rumori di onde aveva tutto un suo ragionamento e poi lui è veramente fuori cioè nel senso con tutte le sue teorie eccetera eccetera e allora mi aveva incuriosito questo impatto di tutti questi elementi che tu hai oggettivamente oltre al piatto che mangi anche il contesto complessivo come lo vivi tu è una cosa che consideri oppure dici no io mi concentro sul piatto sul contenuto e il resto chi se ne frega o la tipologia di piatto la dimensione no no devo dire che devo dire che il mio mondo è l'ospitalità ok l'accoglienza quindi non non perdo mai il focus su questa cosa cioè tu vieni a casa mia e io perché adoro il mio mestiere ti devo far star bene senza farti pensare quindi anche io ho un'idea molto più grande di quello che è di quello che è il piatto finito fine se stesso e tutto il resto dell'ospitalità non è un caso che nel mio ristorante ci siano tutte cose disegnate da me se tu vieni dalle sedie tavoli piatti bicchieri posate tutte queste cose le ho fatte per dare un senso di accoglienza e di comodità perché fare il ristoratore vuol dire fare come dicevano una volta l'oste vuol dire accogliere le persone e farle stare bene nel momento in cui coniughi queste cose e riesci a comporle riesci secondo me a dare un servizio più più rilassato più più morbido a colui che viene a mangiare perché quando tu vieni da me a mangiare non deve essere un impegno rigido intenzione io non devo pensare scusami ma quando mi siedo a me interessa mangiare bene avere una bella spesa ma soprattutto una cosa interessa che se sto con cinque persone a cena o a pranzo io devo stare bene con queste cinque persone chiaro chiaro ok quindi l'importante è quello e io da 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 hoste quale sono da ristorante che accoglie devo solo assecondare questa tua volontà e ci sono degli accorgimenti che usi tecnicamente non so un certo tipo di tessuto della tovaglia un certo tipo appunto di piatto un certo tipo di musica c'è qualche cosa che si si c'è un messo logico che va che va molto secondo quello che siamo cioè non devo più di tanto studiare le cose perché abbiamo un modo di essere nel ristorante che ci porta quotidianamente ad aggiungere delle cose che hanno coerenza ok con tutto un esempio su tutti adesso ho disegnato i tavoli sul ristorante nuovo la media dei tavoli è 72 centimetri più o meno 70 non lo dico io 70-72 centimetri da da 60 anni no dico di altezza e non di ok di altezza media media di altezza di 50-60 anni fa e si è portata avanti questa piccolo problema che l'uomo si è alzato noi ci siamo tutti quanti alzati di qualche centimetro anche più bassi sono più alti degli bassi di 60 anni fa quindi ho pensato che per una maggior comodità e poi per un flusso diretto del cibo più 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 morbido io avessi dovuto alzare il tavolo quindi la sedia quindi creare un qualcosa che potesse essere comodo ok e quindi ho fatto questi alti questi tavoli alti 82 me li ha fatti Maurizio Riva che è un grande artigiano del legno ok sul mio disegno la sedia altrettanto quindi quando tu mangi hai una postura per la quale tu hai il tuo stomaco dritto un'eresia per me mangiare bene per poter star bene potrebbe essere quella di mangiare in piedi appoggiato con calma senza correre perché comunque hai una un flusso più diretto esatto più naturale ecco ho pensato avendo magari qualche problemino di digestione perché mangio veloce eccetera ho pensato che per il mio ospite volevo una comodità e devo dire che dopo due anni e mezzo il progetto funziona perché a sono sul catalogo di Maurizio e quindi è un progetto che è vendibile quindi pertanto l'idea esiste perché è vendibile perché la gente lo compra e poi per i miei ospiti ho scoperto che c'è una comodità comodità incredibile ho utilizzato un legno che è l'olmo perché la piazzetta è San Pietro all'olmo il paese nella piazzetta c'è un olmo quindi per tenere il filo conduttore della cultura del territorio ho riportato questo legno dentro così come il sottotavolo dei libri di scuola di una volta è presente che noi mettevamo tavolo da scuola banco da scuola e sotto allora ho preso spunto da lì mettendo una fascia sotto dove io adagio il tovagliolo dove praticamente tu hai il setup e la tavola in questo cerchio sotto e hai la tavola libera quindi quando tu arrivi il tuo telefono hai un appoggio per metterlo qui o sotto e ti dedichi totalmente alla tavola vedi questa è una cosa che quando ti sento parlare o anche quando vedo per dire le tue foto su Instagram hai sempre questa per me è di grande ispirazione perché io invece non sono come te e devo imparare su quel fronte devo riuscire a avere più attenzione ai dettagli a questa coerenza complessiva anche nell'immagine che vedo è sempre riesci sempre a dare un'immagine pulita che non è fredda ecco questa è la cosa è un'immagine che è pulita e dici super attento ai dettagli ma non è fredda quella roba asettica che dici ok perfetto ma e quindi non so come fai mi devi fare un workshop su questo no anzi tu lo devi fare a me perché complimenti poi te li faccio però è la passione che mi spinge a fare tutto è l'amore che ho per un qualcosa che secondo me può dare tanto agli altri essere altruista do do in giapponese vuol dire via noi l'abbiamo tradotto un po' come la via giusta poi do se lo traduce anche in italiano vuol dire dare verbo ok quindi tutte queste cose messe assieme anche nella scelta del nome del ristorante è un fare qualcosa per gli altri io faccio un lavoro per gli altri nel momento in cui io mi incazzo quando entrano i clienti da me perché credo di essere il dio in terra e non li assecondo cade cade tutto quello che io faccio no quindi io non faccio un mestiere è la mia vita questa e provo a viverla nel miglior modo possibile approcciando relazionandomi alle persone nella maniera più semplice che c'è cioè non parlando come dicevano prima al politichese o spiegandomi facendo giri di parole per non fare perché se io ti raccontassi un piatto adesso tu rimani così questo è un fenomeno però poi quando ti fai un esame di coscienza e dici ma cosa mi ha detto non ricordo però tanto passa il tempo passa se invece tu o mangi da me o ascolti le ricette o le cose che dico sono cose assolutamente confrontabili giudicabili e probabilmente o apprezzabili oppure da eliminare se tu dovessi ripartire oggi oppure uno sbarbato che viene da te ti dice Davide vorrei fare il tuo mestiere come si fa da dove parto che consiglio gli dai prima cosa leggere cuoco andata e ritorno il mio primo libro del 2007 cuoco andata e ritorno perché descrive un po' quello che ho fatto nel momento un po' incazzato della mia vita perché era l'inizio dell'attività perché non sapevo come muore perché avevo un sacco da fare perché dovevo buttare fuori un po' tutto quello che avevo per far capire perché il primo libro lo scrissi perché perché avevo tanti colloqui di lavoro da fare con i giovani quindi il primo mese va bene il secondo va bene poi il terzo il quarto quando cominciavo a essere in cucina a lavare i piatti fare i conti fare la spesa a un certo punto non ho capito più niente ti girano i coglioni e no ti girano ma poi vorrei dare ascolto a tutti e questo forse è il mio errore però al momento no cosa fai comincio a prendere appunti appunti su appunti appunti su appunti quindi arriva faccio il libro e decido che chi vuole venire al DO a lavorare deve per fare una piccola selezione come dicevamo prima democratica deve prendere il libro leggerlo poi torna a fare il colloquio e da lì si inizia la relazione nell'attesa di entrare nel mio ristorante chiaro ok quindi questa situazione mi ha mi ha portato ad avere un'idea e un criterio anche per selezionare i ragazzi che fossero con me quindi il tempo che io perdevo per spiegare com'ero era quello che poi ho raccolto nel libro e ho dato ai ragazzi quindi al ragazzo direi leggere cuoco andate e ritorno che è già una prima linea guida è quello che anzi lo farei leggere prima i genitori e poi al ragazzo questo è quello che dico sempre poi sicuramente avere il doppio sogno sempre pronto nel caso ti vada male uno non provare a fare quattro cose contemporaneamente ok per seguirne una poi lo butterei un po' giù di morale perché gli direi guarda che è un lavoro dove i primi anni perdi morosa amici contatti eccetera che se sei un po' furbo che tieni duro nel momento in cui tu tiri sulla testa te ne tornano cento volte di più farei capire che l'amico dell'infanzia poi a volte con l'esperienza capisci che non è proprio l'amico per la vita cioè raramente o solo in Italia rimangono gli amici per la vita questo concetto di sacrificio sacrifico oggi per una cosa migliore che poi che poi ha ragione anche la mia madre perché l'uomo propone e Dio dispone quindi tu sacrifichi oggi poi magari domani non so se arriva domani però mi viene da dire che è una buona scommessa se va bene tu puoi fare questo e poi sapere che comunque come tutti gli altri lavori è un lavoro sacrificante è un lavoro che se vuoi arrivare devi dedicarci del tempo cioè non può essere che mi faccia influenzare dal fatto che non ho la sera libera perché la prima cosa che ti viene è cazzo non c'è la sera libera e quindi non posso fare tutti gli altri lavori sono uguali io ho amici affermati che non sono in cucina altri campi cazzo che vanno via alle 7 della mattina ragazzi alle 9 di sera sono ancora in ballo io fino all'una di notte sono in ballo però alle 9 di sera o alle 10 di sera anche loro sono in ballo ed è gente che ha affermata che ha successo ma non è quel successo effimero per cui si pensa tutti uno ha successo perché perché cazzo davanti a una telecamera ha successo perché è famoso ha successo per quello che ha fatto succedere nella sua vita questo l'ho scritto nel mio libro cioè la forma di successo mia è perché ho fatto succedere delle cose nella mia vita che mi hanno portato ad avere un successo mio personale non è successo che voglio confrontare con gli altri è una soddisfazione mia personale che fa sì che io possa mettermi alla prova ogni giorno con me stesso cioè il peggior nemico mio è Davide Oldani e la sfida più importante per me è vincere quello che io ho in testa di fare per il bene dei miei ragazzi per le soddisfazioni mie l'unico problema è che più vado avanti con gli anni più mi sento sempre affamato e non so se è un bene o un male però c'è una fame della madonna di non di successo c'è una fame della madonna nel voler imparare nel voler apprendere migliorare venire qua a parlare con te confrontarmi con le persone l'unica cosa buona è che adesso c'è una possibilità di scelta di persone grande Davide grazie mille super